Sabato 19 maggio 2012, 24 a 14, ultimo punto per la Ballavolo Crotone per vincere questa semifinale. Sarebbe il 2-1, due incontri su tre vinti, questa semifinale dei play-off. Ultimo punto per le ragazze del mister. Che ero asteriti. Ed eccolo! Ed eccolo! Ed eccolo! Ed è vittoria per le ragazze, per la Ballavolo Crotone che conquistano questa semifinale. Ma non è la semifinale questa? Sì, semifinale. C'è la finale un po'. Vite! Tu dovevi stare benissimo, non dovevi fare il tifo. Ha detto, o fa un fotografo o fa un tifo di tifo. Non ci vuole, non ci vuole. Calico! 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 Ma adesso con chi è la finale? Calico! Ce la dita a ritorno calico. Cosa? Abbiamo saputo anche che la finale sarà col Gallico, in questo caso l'eventuale bella, la terza partita come è successa oggi, si disputerebbe a Gallico. Sicuramente comunque un ottimo risultato per la pallavolo Trotone che conquista questa finale per l'accesso in B2. E poi magari un giorno si arriverà anche in A2, chissà. Fabrizio! 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 E viene ricordato anche Fabrizio Pioli, il fratello di Romina, capitano della squadra, che è scomparso, manca da alcune settimane, si deme il peggio. Speriamo che magari ci sia anche quest'altro regalo.